La parola al dottor Rizzo. 19 e 22 minuti Radio Radicale, state ascoltando il convegno Quale democrazia con quali costi che si è tenuto a Roma il 14 dicembre scorso promosso da Eurispes e Associazione Ex Parlamentari della Repubblica dopo l'ex Presidente della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti, Sergio Rizzo giornalista del Corriere della Sera. 100% anche il mio pensiero quando dice che noi andremmo in montagna con i fucili se qualcuno provasse a toccare il Parlamento e la democrazia. Bertinotti e Mancino hanno detto due cose importanti secondo me. Mancino ha fatto riferimento alla crisi dei partiti, partiti chiusi in se stessi ed è vero, c'è una crisi profonda che stanno attraversando i partiti oggi Bertinotti ha fatto invece riferimento al fatto che il Parlamento ha perso un po' il ruolo di selezione politica della rappresentanza ed effettivamente questo è il cuore del problema perché nessuno si chiedeva quanto guadagnasse De Gasperi o quanto guadagnasse Fanfani questa è una polemica che negli anni 70 o negli anni 60 non c'è mai stata sul costo dei parlamentari, su quanto guadagnassero, sui privilegi perché evidentemente la politica era percepita come una cosa diversa evidentemente. Allora forse ha ragione il professor Merlo quando ha fatto uno studio recentemente confrontando il Parlamento del 1948 e quello del 2008, arrivando a darci dei dati che sono impressionanti nel 1948 gli italiani laureati erano l'1%, i laureati in Parlamento erano il 91% nel 2008 un paese che comunque ha ancora pochi laureati perché sono la metà della media europea questo non è un dettaglio in Italia, l'11,5% i parlamentari laureati sono il 64%, cioè sono 30 punti quasi meno del 1948 che cosa è accaduto? È accaduto che, questo bisogna dirlo, dirlo con chiarezza che il livello della classe politica italiana è diminuito, è sceso e non è un caso che oggi quando guardiamo non le retribuzioni dei parlamentari ma guardiamo le denunce e le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari che cosa, che situazione troviamo? abbiamo provato a fare, Gian Antonio Stella e io abbiamo provato a confrontare le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari del 1982 con quelle del 2009 ebbene nel 1982 il parlamentare più ricco era Guido Carli che dichiarava in euro rivalutate oggi l'equivalente attuale di 700 mila euro e non è paragonabile con i 40 milioni di euro che dichiara Berlusconi, credo il secondo parlamentare più ricco era Agnelli che dichiarava l'equivalente di 600 mila euro d'accordo, stavo un po' basso, però posso notare che oggi il secondo parlamentare è un signore che si chiama Angelucci che era un ex portantino del Policlinico che è diventato ricchissimo diciamo affittando alla sanità pubblica delle cliniche private e andiamo giù, scendendo fino a l'avvocato troviamo un avvocato famosissimo nella classifica dei primi dieci parlamentari più ricchi del 1990 di Giuliano Vassalli, un principe del foro oggi abbiamo molti avvocati che guadagnano immensamente di più di quello che guadagnava Giuliano Vassalli e che chissà perché sono tutti quanti nelle prime caselle della graduatoria dei parlamentari più ricchi che cosa è successo? è successo che il lavoro del parlamentare si è prosciugato man mano ed è prevalsa la logica per cui il parlamentare può fare altro e il parlamentare diventa un'attività residua questo è accaduto ed anche questo è il motivo per cui il Parlamento produce oggi così poco diciamo la verità perché questo va detto allora che cosa bisognerebbe fare? noi non ci siamo, noi, né Stella né io, ci siamo mai scandalizzati di quanto guadagnano i parlamentari italiani perché riteniamo che non l'abbiamo detto l'abbiamo detto l'abbiamo detto il problema è quanto produce cioè non quanto guadagna è quanto produce allora perché non si può fare come negli Stati Uniti? negli Stati Uniti c'è una regola molto semplice il protempore, il parlamentare che viene eletto dal popolo esercita quell'attività e basta esercita quell'attività e basta allora questo secondo noi dovrebbe essere il principio guardate ci sono altri paesi europei la Germania la Germania non ha un divieto non è prevista l'incompatibilità tra la seconda attività diciamola così privata e quella di parlamentare ma io noi abbiamo parlato ci siamo documentati abbiamo parlato con i parlamentari tedeschi e loro ci hanno spiegato che da loro non è assolutamente concepibile perché è talmente diciamo assorbente l'attività del Parlamento è quella che poi svolgono sul territorio che non è neanche lontanamente immaginabile di svolgere un'attività professionale come quella di avvocato oppure di medico ci sono dei medici in Parlamento che svolgono un'attività medica dovrebbero esserci più che essi dovrebbero esserci ci sono mai almeno uno non c'è mai quindi il problema devo dire il problema va diciamo non va a limite chi focalizza la propria attenzione su quanto guadagnano i parlamentari o sul vitalizio cioè sbaglia completamente il bersaglio ma noi questo l'abbiamo detto guardate se voi leggete i nostri libri i nostri articoli è chiarissimo quello che noi pensiamo al riguardo dopodiché però non possiamo neanche come dire non sottolineare che questa distorsione ha corrisposto a una distorsione di sistema cioè negli ultimi dieci anni le retribuzioni dei dipendenti pubblici sono aumentate del 41% 42% mi sembra vado a memoria i rimborsi elettorali sono aumentati del 1110% cioè questa è una cosa che non può essere come dire non messa in evidenza per esempio è vero che la politica è diventata sempre più costosa ma enormemente più costosa anche rispetto agli altri paesi europei intendiamoci c'è da fare una precisazione che se il livello della classe politica è diminuito è caduto in questi ultimi 30 anni diciamo così lo stesso è successo al livello della classe dirigente complessiva del paese intendiamoci perché lo stesso è avvenuto nell'informazione è avvenuto nelle grandi imprese è avvenuto diciamo in tutto il complesso della classe dirigente dove un ceto burocratico amministrativo si è impossessato con livelli altissimi di retribuzione si è impossessato per esempio della pubblica amministrazione vogliamo dirlo con chiarezza questo perché anche questo va detto allora è presente delle poste siccome sono state citate dei casi concreti l'amministratore delegato delle poste non guadagna 800 mila euro all'anno guadagna 1 milione e 600 mila euro l'anno d'accordo? perché che cosa fanno? sommano l'incarico di amministratore delegato con quello a tempo indeterminato a tempo indeterminato di direttore generale il presidente dell'Inps che è stato citato che guadagna poco perché 150 mila euro l'anno il presidente dell'Inps ha 24 incarichi oltre a quello di presidente dell'Inps 24 incarichi e io mi domando se sia una cosa accettabile no? questo sono tutte cose che poi vanno messe nel conto del costo della politica perché anche quelli sono costi della politica si è tanto parlato del costo dei parlamentari lo stipendio l'indenità ma vogliamo prendere in considerazione il fatto che ormai la retribuzione media di un dipendente della Camera o del Senato è superiore a quella di un dirigente dell'azienda la retribuzione media sono cose che non sono più accettabili per i comuni cittadini che sono costretti a tirare e aggiungere un buco alla cinghia ogni 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 due o tre anni aggiungo l'ultima cosa e poi mi taccio che questo sistema diciamo va riformato anche per mettere ordine in una serie di assurde diseguaglianze assurde incredibili diseguaglianze che che mortificano la stessa diciamo il ruolo del politico allora vi faccio un caso il caso dei vitalizi dei consiglieri regionali allora ci sono dei parlamentari che sono stati 35 anni in Parlamento hanno fatto solo quello e percepiscono un vitalizio di 9000 euro lordi al mese perché dopo 20 anni scatta il massimo quindi anche se sono rimasti 35 anni in Parlamento continuano a portare via quello che avrebbero portato via dopo 20 anni ci sono parlamentari che hanno fatto per 20 anni parlamentari e per 15 anni consiglieri regionali quindi sempre 35 anni di vita politica però siccome hanno avuto due vite politiche prendono due vitalizi uno da 9000 del Parlamento e un altro da 9000 della regione Lazio nella fattispecie io mi domando se sia accettabile questo mi domando un'altra cosa mi domando se sia accettabile mi domando se sia accettabile che i sindaci che sono quelli che fanno un lavoro massacrante spesso e volentieri e che sono quelli che hanno il rapporto più diretto con i cittadini e che rischiano di più non ce lo dimentichiamo mi domando se sia giusto che i sindaci non abbiano una posizione contributiva previdenziale mi sembra una follia a me personalmente che noi diamo il vitalizio ai consiglieri regionali che sappiamo benissimo che tipo di lavoro svolgono vogliamo contare le leggi che fanno certe regioni la regione Calabria che nell'ultimo anno e mezzo l'assemblea regionale si è riunita 25 volte quindi questo è il livello di impegno noi siamo convinti che attraverso la trasparenza che diventa poi l'elemento fondamentale perché il confronto dà la garanzia anche ai cittadini di poter fare delle scelte nel momento in cui io vedo su internet quanto si spende per i giornali faccio un caso della regione siciliana e quanto si spende di giornali della regione Lombardia posso già farmi un'idea di chi ha operato bene e chi ha operato male lo stesso nei comuni quindi partendo da questo io sono convinto che noi dobbiamo arrivare a una profonda revisione di tutto il sistema bisogna come dire bisogna guardare la realtà in faccia il paese è cambiato il paese è cambiato e deve cambiare anche la rappresentanza politica credo per migliorarsi grazie 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 dottor Riccio soprattutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti